Grazie Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi ed eccoci anche questa settimana ragazzi ad estrarre il vincitore del video contest di questa settimana quindi andiamo a chiudere il video contest in maniera tale che nessuno di voi metterà più partecipo e una volta chiuso il video contest do una rapida controllata ai commenti e alle varie cazzate che diciamo ci sono in più se ci sono in più, se c'è qualcosa in più e passiamo dopodiché all'estrazione ragazzi un attimino che carica che ci mette una vita in merda quando ho il programma aperto insomma e nulla, come dicevo andiamo a chiudere il video contest e vediamo allora ragazzi i requisiti fondamentali per vincere il video contest per vincere questi 30.000 credit di FIFA sapete quali sono lasciare un like al video, scrivere partecipo sotto al video essere iscritti ovviamente al canale ed avere la lista delle condivisioni o comunque il vostro canale aperto ragazzi il vostro canale aperto in maniera tale che io possa vedere quali sono i vostri video piaciuti, quelli che vi sono piaciuti se siete iscritti al canale e tutto il resto questo potete farlo dal vostro menu impostazioni potete avviare il canale e renderlo pubblico in maniera tale che io possa controllare ragazzi mi raccomando non mi lasciate commenti doppi tipo questi qua che mi scassa parecchio la minchia ogni volta stare lì a cancellare commenti doppi o commenti inutili basta lasciare solamente un partecipo ragazzi non dovete lasciare niente altro e basta non è che se mettete più partecipo avete più possibilità di vincere anche perché io passo a rassegna tutti quanti i commenti e se vedo commenti doppi o commenti inutili riprendo e li cancello quindi ragazzi non commentate più di una volta perché non serve a un cazzo quindi passato questo discorso andiamo a vedere diciamo se ci sono altri commenti altre cazzate dopodiché andremo ad estrarre il vincitore e chi avrà i requisiti sufficienti ragazzi per aver vinto questi 30.000 crediti allora ragazzi vi premetto una cosa non mi stalkerate chiunque vinca vinca non me ne frega un cazzo non mi stalkerate o meglio non mi mandate 2500 messaggi su PSN perché se no mi fate rosicare io i crediti ve li do potete stare tranquilli per quanto riguarda quello però non siate assillanti non siate pallosi perché se no mi fate girare le palle allora quindi nulla andiamo su random picker e andiamo a controllare chi è stato o chi è il vincitore di questa settimana chi è stato chi è il fortunato vincitore di questa settimana era un po' che non facevo qualche gaffetta qualche qualche impiccio mi mancavano mi mancavano ragazzi quindi niente andiamo ad incollare il link gli diamo stancollata ragazzi vi tengo aggiornati anche con l'orario in maniera tale che vi rendiate conto che il video è paro paro senza tagli e senza un cazzo insomma e andiamo a vedere andiamo a vedere abbiamo estratto il primo vediamo un attimino chi è il primo e vediamo se ha i requisiti necessari soprattutto perché come ho già detto prima i requisiti li conoscete tutti questo utente non ha requisiti necessari per diciamo per vincere questi 30.000 crediti quindi mi dispiace per lui ha solamente l'iscrizione al canale che non è sufficiente ragazzi non è sufficiente anche se ha messo like al mio video io non vedo la sua lista video piaciuti quindi nulla di fatto mi dispiace per lui la prossima settimana spero che metterà la lista video piaciuti pubblica in maniera tale che io posso verificare se veramente gli è piaciuto il mio video o meno passiamo al secondo che sto estraendo che ho estratto e anche lui ragazzi come avete visto non ha un non ha un cazzo di pubblico quindi passiamo a paghi vediamo paghi che cosa ha se ha la lista pubblica che cosa ha pubblico diciamo sul suo canale come state vedendo ragazzi già vedo parecchi i miei video sul suo canale e qui abbiamo anche l'iscrizione al canale quindi detto questo ragazzi per me paghi è il vincitore mi contatti su psn senza stalkerarmi per questo video è tutto al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti